Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube. Oggi ci troviamo in Valveddasca in provincia di Varese e precisamente nel comune di Curiglia e andremo a conoscere la frazione Mulini di Piero. Grazie a tutti. I Mulini si trovano poco distanti dalla frazione Piero, immersi in un bosco che sembra quasi essere uscito da una fiaba. I Mulini risalgono al XVIII secolo, quando l'attività era incentrata attorno alla macinazione del grano. Ormai abbandonati da oltre 40 anni, sono stati ricostruiti negli anni 90, utilizzando i materiali del luogo. Ormai abbandonati da oltre 40 anni, sono stati ricostruiti negli anni 90, utilizzando i materiali del luogo. Oggi, grazie al ristauro effettuato, è possibile passeggiare tra i resti dei Mulini e sentirsi come catapultati indietro nel tempo, circondati da un bosco affattato dove il tempo sembra essersi fermato. Durante la bella stagione ci si può fermare a fare un picnic nei pratici costanti e, quando possibile, passare qualche ora sulle rive del torrente Giona a rinfrescarsi. Non è raro trovare animali al pascolo, grazie alla presenza di alcuni agriturismi nella zona, che producono dell'ottimo formaggio.